Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono morte almeno 300 persone. Il presidente francese Macron ha annunciato un'operazione umanitaria con Turchia e Grecia per evacuare tutti coloro che desiderano lasciare Mariupol. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Apriamo questa edizione e partiamo dal vertice del Consiglio europeo, la seconda giornata del Consiglio europeo che si è svolta ieri a Bruxelles, nell'ambito della quale è stata trovata un'intesa soltanto però su un punto, quello di un acquisto comune di gas su base volontaria. Altre questioni, compreso quello che riguarda il prezzo, un tetto al prezzo del gas, sono state rinviate e quindi ci si sta lavorando. L'Unione europea dunque si avvicina in maniera progressiva ad un'autonomia da parte della Russia, anche se l'Italia già a gennaio, quindi prima che scoppiasse la guerra, aveva dimezzato le sue forniture da questo paese. Intanto gli Stati Uniti sono disponibili a fornire un ingente quantitativo di gas naturale. Facciamo il punto. Doveva chiudersi nel primo pomeriggio, la seconda giornata del Consiglio europeo, cominciato con la risposta dei 27 alla guerra in Ucraina e proseguita con il tema della crisi energetica. Invece si protrae fino a sera perché l'Europa, che viaggiava compatta anche sul tema delle sanzioni a Mosca, è tornata a mostrare le sue diversità sulla riforma del mercato energetico. Ci sono diverse posizioni, da una parte l'Italia e la Spagna, fra i primi a chiedere di intervenire con un tetto dei prezzi del gas, dall'altra parte il fronte del nord, Germania e Olanda, soprattutto contrario a un intervento comune. Insomma le ore passano, il documento sul tavolo viene visto e rivisto senza ancora trovare un compromesso. Alla fine il vertice si conclude in serata e sono il Presidente del Consiglio Michel e quello della Commissione von der Leyen a fare una conferenza stampa. Quello che ne esce è di fatto un documento annacquato, si decide per un acquisto comune a livello europeo dei rifornimenti, ma si rimanda a maggio la decisione sul tetto del prezzo. E si rimanda anche alla Commissione europea che agirà sui singoli paesi con interventi mirati. Ma la giornata si era aperta con un'altra dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e Unione Europea. Biden, ospite speciale quel Consiglio e von der Leyen hanno ribadito un Occidente più unito che mai nel tentativo di fermare Mosca, sul campo e dal punto di vista economico. Il Presidente degli Stati Uniti spinge i leader dei 27 paesi membri affinché si stacchino dalla dipendenza energetica russa per poter così colpire con sanzioni ancora più forti il Cremlino con un embargo al petrolio e al gas. E quindi garantisce forniture all'Europa dagli Stati Uniti promettendo 50 miliardi di metri cubi di gas liquefatto entro il 2030 e poi aiuti negli investimenti per differenziare le fonti di energia e puntare sulle rinnovabili. Biden, dopo aver serrato i ranghi dell'Occidente con la Nato pronta a intervenire qualora da parte di Mosca ci sia un attacco con armi chimiche, parte alla volta della Polonia, arriva e fa visita a una base militare e rassicura il Presidente polacco Duda. Gli Stati Uniti sono pronti a star vicino a Varsavia con stanziamenti per gli aiuti umanitari e sul grande problema di questa guerra, i rifugiati. E nella conferenza stampa che ha tenuto al termine del Vertice il Premier Mario Draghi ci ha tenuto a sottolineare il fatto che tutti stanno lavorando per il raggiungimento della pace. Lui stesso lo sta facendo e ha annunciato che avrà anche lui un colloquio con Putin. Poi naturalmente ha affrontato anche le questioni che riguardano le spese militare e le conclusioni del Vertice sul piano energetico. Un piano di diversificazione energetica entro due settimane. Mario Draghi al termine del Summit di Bruxelles assicura tempi rapidi per affrontare l'emergenza, ridurre la dipendenza dal gas russo fino a superarla. Processo da accelerare, soprattutto nella prima fase, anche se il Presidente del Consiglio non si aspetta una riduzione della fornitura di gas dalla Russia. Contiamo di essere in grado di assorbire la nostra quota di gas che ci viene offerta dagli Stati Uniti, spiega. Oggi abbiamo in funzione tre rigassificatori. Il Ministro Cingolani ha dato disposizione alla Snam di acquistarne altri due, navi galleggianti, perché per quelli sulla terraferma occorrerebbe più tempo. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha proposto l'acquisto congiunto di gas da parte dell'Unione Europea, che avrebbe una grande forza contrattuale, anche perché l'Europa è il più grande acquirente di gas naturale del mondo, continua Draghi. Per maggio avremo anche una proposta della Commissione sulla possibilità di spacchettare la formazione del prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, altro aspetto per cui bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo. Ipotesi da approfondire nelle prossime settimane, anche per le resistenze di alcuni partner dell'UE, contrari anche a un tetto al prezzo del gas. Draghi ribadisce l'obiettivo del 2% del PIL per le spese militari. L'impegno del 2006, ricorda, serve per una difesa europea. E dopo le critiche del Papa, l'aumento dei fondi per gli armamenti aggiunge «Sono grato al Santo Padre, stiamo cercando la pace, io la sto cercando, veramente, avrò anche io, come gli altri leader europei, colloqui con Putin. Non siamo in guerra perché si segue un destino bellico, si vuole la pace innanzitutto». Quanto alle polemiche italiane, Draghi auspica unità. Non dobbiamo perderci in recriminazioni, dobbiamo guardare avanti, seguire la posizione degli alleati. Poi i conti si fanno con la coscienza e con il proprio elettorato. E intanto, mentre i negoziati sono in una fase di stallo, la Russia cerca in qualche modo di rovesciare la narrazione di questa guerra con Putin che lancia accuse all'Occidente addirittura di voler cancellare la cultura russa. Intanto, ieri in videoconferenza era collegato anche il presidente ucraino Zelensky che ha avuto toni molto duri nei confronti di Orbán. «Tu stai esitando nel prendere la decisione sulle sanzioni, se imporre le sanzioni o no. Questo non è il momento di esitare, è il tempo di decidere. Un attacco frontale, quello che il presidente ucraino Zelensky in collegamento in videoconferenza con il Consiglio europeo ha sperrato nei confronti dell'Ungheria e del suo premier Viktor Orbán. Lo ha invitato a prendere finalmente posizione, a decidere con chi stare. Quell'Orban, fino a poche settimane fa, strettissimo, alleato di Putin e ora comunque molto defilato nell'aumentare la pressione su Mosca vista la sua ferma opposizione all'invio di armi a Kiev e all'estensione delle sanzioni all'energia. Ma nel suo intervento, Zelensky, accanto ai ringraziamenti più o meno sentiti agli stati membri dell'Unione europea, non ha mancato di sottolineare il ritardo della Germania nell'allinearsi alle sanzioni e le esitazioni di Irlanda e Portogallo. Nel frattempo, da Mosca, la narrazione rovesciata di quella che viene chiamata operazione militare speciale ha conosciuto interpretazioni ai più alti livelli. Prima il ministro degli esteri Lavrov ha parlato di guerra ibrida totale dichiarata alla Russia dall'Occidente con l'obiettivo di sfiancarla e strangolarne l'economia con sanzioni senza base giuridica in barba ai valori su cui, ha detto, tutti i nostri colleghi occidentali ci fanno la predica che non valgono un centesimo quando c'è da colpire Mosca. Poi è stato direttamente Vladimir Putin ad affermare che l'Occidente sta cercando di cancellare un intero paese millenario con la progressiva discriminazione di ciò che è connesso alla Russia. Cultura dell'annullamento, la chiamata, che coinvolge anche gli scrittori russi. L'ultima volta una tale campagna di massa per distruggere la letteratura sgradita è stata eseguita dai nazisti, ha affermato. Tutto questo poco prima di promulgare la legge che prevede condanne fino a 15 anni di carcere per chi pubblica false informazioni sulle azioni militari della Russia all'estero in pratica per chi definisce guerra l'attacco all'Ucraina. Intanto sembra che la Russia stia cercando di portare rinforzi sul campo mentre la strategia di Mosca sta cambiando e ci sarebbe anche una data per la fine della guerra. Liberare il Donbass e chiudere così dopo più di un mese la guerra in Ucraina. Per Mosca a questo punto sarebbe più di una tentazione una necessità, quella di aprire la fase 2 del conflitto già nelle prossime ore con un vero e proprio cambio di strategia. La resistenza ucraina sul campo si è rivelata infatti più duratura del previsto. fallito il piano iniziale di un'invasione lampo per rovesciare il governo di Kiev sono sempre di più i pezzi di territorio che vengono riconquistati e strappati dagli ucraini alle truppe russe. Il Ministero della Difesa di Mosca ridimensiona i piani sostenendo di non aver mai puntato ad altro che alla totale liberazione del Donbass. La regione è contesa da 8 anni e lo fa ufficialmente durante un briefing in cui la protezione delle popolazioni di Lugansk e Donetsk, le due repubbliche dichiarate autonome da Mosca diventa l'obiettivo prioritario del conflitto in corso. Non solo, tra i militari russi è iniziata a circolare anche una data quella del 9 maggio prossimo per dichiarare chiusa l'operazione militare speciale voluta da Putin in Ucraina data in cui a Mosca si celebra la giornata della vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. È anche vero però che il Cremilino non ha intenzione di accettare un cessato il fuoco e questo è uno dei principali ostacoli al negoziato con Kiev. Negoziato ha fatto sapere il presidente Zelensky nelle ultime ore che deve garantire la sovranità dell'Ucraina e la sua integrità territoriale. Le sirene antiaereo sono tornate a suonare intanto questa mattina in diverse città nella capitale Kiev e nelle città di Cercasi nel centro del paese a Zaporizh e Dnipro nel sud-est a Zitomir nell'est e a Kharkiv e Sum nel nord-est dell'Ucraina. Secondo il Pentagono Mosca starebbe cercando inoltre di portare rinforzi attingendo alle sue truppe in Georgia mentre l'ONU ha ricevuto un numero crescente di informazioni che confermerebbero l'esistenza di diverse fosse comuni nella città di Mariupol confermate anche dalle foto satellitari. Mariupol dove potrebbero essere circa 300 le vittime rimaste sotto il bombardamento del teatro e rimane in primo piano la questione dell'evacuazione di chi vuole lasciare la città e adesso alcuni stati sarebbero intenzionati a impegnarsi in primo piano per la prima volta dall'inizio del conflitto ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con il nostro inviato Fabio Angelicchio. Buongiorno Fabio. Sì, buongiorno Emanuela e proprio come dicevi tu potrebbe prendere il via nelle prossime ore una grande operazione umanitaria è stata annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron che ha la guida del semestre europeo e insieme alla Francia parteciperebbero anche la Grecia e la Turchia. L'operazione sarebbe concentrata in particolare nella città di Mariupol e nell'area circostante perché lo raccontiamo ormai da giorni è proprio qui che si sta vivendo una vera e propria catastrofe umanitaria e non soltanto per le vittime del teatro sotto il bombardamento russo ma proprio per le condizioni di vita della popolazione sono oltre 100.000 le persone che sono imprigionate all'interno di questa cintura che hanno creato le forze armate russe attorno a Mariupol e i corridoi umanitari che spesso vengono chiusi consentono l'uscita soltanto di qualche migliaio di persone. Allora questa grande operazione umanitaria annunciata dal presidente francese potrebbe forse dare sollievo alle condizioni di vita degli abitanti di Mariupol ma naturalmente è tutto il paese dall'inizio del conflitto cioè dal 24 febbraio scorso a vivere un dramma umanitario in molte città molti si stanno riversando sulle Opoli che vi ricordo è a soltanto 50 km dal confine polacco sono oltre 500.000 le persone che sarebbero transitate proprio in questa città sono state assistite e poi sono riuscite a ripartire verso la Polonia e verso l'Europa e questo per il momento è tutto a te Emanuela grazie Fabio ringraziamo il nostro inviato Fabio Angelicchio e intanto sono quasi 70.000 i profughi ucraini che sono arrivati in Italia dall'inizio della guerra il governo per ospitarli è pronto ad utilizzare anche gli immobili confiscati alle mafie si tratterebbe in tutto di 622 immobili 234 sono strutture abitative che l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati assegnerà in come dato gratuito e temporaneo alle strutture mentre gli altri 388 sono già stati trasferiti agli enti locali ma non sono stati ancora utilizzati il ricorso ai beni confiscati assume un forte valore simbolico ha commentato il ministro dell'interno Lamorgese intanto si lavora anche a meccanismi di redistribuzione degli arrivi tra le regioni per ora le città di destinazione dei profughi continuano ad essere in prevalenza Roma Napoli e Milano e parliamo adesso della questione Covid perché è stato pubblicato in gazzetta ufficiale la fine dello stato di emergenza mancano ormai pochissimi giorni è previsto per il 31 di marzo lo sappiamo e da quel momento in poi cambieranno diverse cose per quanto riguarda in particolare l'utilizzo dei green pass e delle mascherine che via via ci apprestiamo a lasciare intanto la curva dei contagi sembra rallentare anche se il tasso di positività rimane alto crescono incidenze indice di trasmissibilità per la prima volta dopo settimane sopra la soglia dell'1 ma la curva della pandemia comincia a piegarsi e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ad analizzare i numeri del Covid nel nostro paese ancora una volta torna a salire l'incidenza che arriva a 148 casi ogni 100.000 abitanti su base settimanale con l'RT che passa invece all'1.12 la proiezione a una settimana all'1.44 ma c'è un piccolo rallentamento nell'impennata dei contagi nelle ultime settimane dice Brusaferro che conferma che a rimanere sotto il limite di guardia c'è l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid ordinari ecco perché da lunedì prossimo anche la Sardegna unica zona gialla del paese passerà in zona bianca come il resto d'Italia solo il primo alleggerimento di una settimana che vedrà finire lo stato di emergenza e con questo numerose e importanti restrizioni la minima flessione della curva si vede netta anche nei numeri quotidiani ieri i contagi sono stati 75.616 con l'indice di positività ancora stabile al 15% in sostanza sono gli stessi numeri registrati una settimana fa il segno che l'incremento di casi sembra essersi arrestato in diminuzione rispetto al giorno precedente il numero delle vittime 145 nelle ultime 24 ore resta invece stabile sia la cifra degli attualmente positivi quante persone hanno oggi il covid in Italia che il numero dei pazienti più gravi fermo tra entrate e uscite a 447 fa registrare invece o meno 35 il computo dei posti retto occupati nei reparti covid ordinari e adesso lo sport con il mondo del calcio che continua a discutere sul futuro di una nazionale che sembra ritornata all'anno zero e gli interrogativi più grandi sono rispetto al futuro del CT Mancini lo tsunami è soltanto agli inizi lo shock di giovedì sera Palermo costituisce la prima ondata e per il momento si stanno ancora ispezionando le macerie di un calcio italiano già pericolante da anni non c'è bisogno di andare indietro di troppo per immaginare una gestione Mancini legata a doppio filo alla presidenza gravina il numero uno federale è entrato in carica 4 anni fa qualche mese dopo rispetto al CT ma i loro destini sembrano correre su binari paralleli nella buona e nella cattiva sorte ieri al centro tecnico di Goverciano l'allenamento si è svolto in un silenzio surreale con Mancini che ha voluto parlare a lungo ai giocatori non si sa se per fornire conferme sul suo futuro o per anticipare l'addio è lui il solo a poter imprimere una svolta insieme al presidente gravina lui potrebbe convincere il selezionatore che dovrebbe tenere una conferenza stampa lunedì a dare vita ad una seconda rifondazione in tutto simile a quella iniziata a maggio 2018 pochi mesi dopo la mancata qualificazione mondiale di Russia con Gian Piero Ventura in panchina quella che pareva una macchia indelebile sulla reputazione azzurra si è ripetuta e questa volta a rialzarsi sarà una vera impresa oggi a ora di pranzo da Coverciano le prime parole a mente fredda di un protagonista della serataccia di Palermo a due giorni dalla partenza alla volta della Turchia per una inutile sfida fra le deluse dei playoff intanto è scattato il sondaggio da parte della federazione per il possibile sostituto il nome più caldo è quello di Fabio Cannavaro ultimo capitano azzurro in grado di alzare una coppa del mondo con Marcello Lippi però come direttore tecnico non ha un palmarès altrettanto ricco ma ha dalla sua una maggiore esperienza Stefano Pioli pronto secondo alcune voci a dire addio al Milan nonostante il suo contratto abbia come scadenza il 2023 in lizza anche l'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo meno probabile la prodo a Coverciano di un supernavigato come Claudio Ranieri troppo gravoso sarebbe l'impegno per il quasi 71enne artefice del miracolo l'Est e in Arabia Saudita la prima giornata del fine settimana di Formula 1 è stata ritardata da un'esplosione a pochi chilometri dal circuito di Jedda un impianto petrolifero è stato colpito da un missile e soltanto dopo una riunione tra i piloti si è deciso di proseguire con l'evento sportivo ieri miglior tempo per la Ferrari di Leclerc che nel finale della seconda sessione ha toccato le barriere con la ruota anteriore sinistra secondo posto per la Red Bull del campione del mondo Verstappen staccato di 140 millesimi davanti alla seconda Ferrari guidata da Carlos Sainz oggi pomeriggio le qualifiche del secondo Gran Premio stagionale e prima di chiudere questa edizione vi ricordo la nostra sottoscrizione insieme al Corriere della Sera un aiuto subito a fianco della popolazione ucraina vedete nel cartello tutti i riferimenti per poter dare il vostro contributo e ora è il momento del meteo tra poco il meteo di Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto oggi da Andrea Pennacchioli gli ospiti Giorgio Dell'Arti Vincenzo Camporini Lì a Quartapelle Sabato Angeri Dario Galli Carla Rumore Roberto Buongiorni e poi a seguire Coffee Break condotto da Andrea Pancani gli ospiti Fulvio Abate Marco Ventura Nicola Pedde Eleonora Evi e Riccardo Fortuna vi ricordo come sempre lo speciale TG La 7 sull'Ucraina condotto dal direttore Enrico Mentano a partire dalle 17 prossima edizione del telegiornale alle 13.30 grazie per essere stati con noi buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti